Sono Francesca Brancato, ringrazio Yves Hensler. Sono Marina De Andrea e voglio ringraziare Daphne de Morier. Mi chiamo Stella De Murtas e ringrazio Frida Kahlo. Mi chiamo Maria Rosa Pantè e ringrazio Teresa Davila, Santa Teresa Davila. Mi chiamo Elga Moioli e ho voluto ringraziare Vicky Nobel. Mi chiamo Tiziana Cobosso e ho ringraziato Simon Veil. Mi chiamo Marina, ringrazio la mia nonna materna. Sono Graziella Priulla, ringrazio Lea Melandri. Mi chiamo Paola Cavallari e il mio ringraziamento va a Carla Lonzi. Grazie. , è una data di un testo. Ho, tu m'è… Anna ti sono aperto a screen. Ho, tu Mahali. Ho, tu m'è…